benvenuti alla casa della salute il paziente diabetico ora può condurre una vita pressoché normale tenuto conto che può fare attività a livello agonistico nei mesi passati si è parlato tanto si è messa sotto accusa la carne rossa già in tre anni quattro anni il mondo chirurgico cambia radicalmente e soprattutto la sintomatologia può persistere anche per molti mesi dopo la risoluzione della fase acuta che permette insieme agli al dalle altre lenti gli altri diottori oculari di far arrivare la luce sulla retina e quindi stimolare la retina innescare il meccanismo della visione chi non può mettere le lenti a contatto ricapitoliamo alo bene l'esame veramente diagnostico ma anche a volte terapeutico poi diventa la colonoscopia soprattutto avere la capacità di fare una sintesi delle patologie multiple che sono sempre presenti in un paziente di età avanzata le cause possono essere molteplici ma la causa più frequente è senz'altro la terosclerosi quindi si fa la formazione di una placca cambiamo adesso argomento